Nel suo mini appartamento alle porte di Arezzo aveva allestito una centrale di produzione della droga. Non si era infatti fatto scoraggiare dalle piccole dimensioni della casa e nemmeno dall'assenza di un giardino. E così un 44enne con qualche precedente per spaccio alle spalle aveva ben pensato di trasformare due stanze in vere e proprie serre professionali con 50 piante di mariguana già fiorite ed altrettante in fase vegetativa. Ma non solo, anche led, stufe e ventilatori essenziali per il corretto ricircolo dell'aria ma soprattutto per evitare che il forte odore insospettisse i vicini. Le serre adesso sono state scoperte dalla polizia di Stato e l'uomo è finito in manette. Gli agenti infatti ieri mattina nel corso di un normale controllo hanno fermato una macchina con a bordo due persone nei pressi del parco Pertini e da primi accertamenti i poliziotti hanno trovato sotto ad un sedile in una bussa di plastica circa 40 grammi di mariguana. È così scattata la successiva perquisizione nell'abitazione con il sequestro di 40 grammi di hashish, 11 flaconi di metadone, ben oltre il limite consentito per l'uso personale, un bilancino di precisione, il materiale usato per il confezionamento della droga è circa 700 euro, verosimilmente provento di spaccio dato che né il 44enne né la compagna lavorano. Inoltre nella credenza conservata tra gli alimenti dentro a sei confezioni di biscotti è stata rinvenuta anche altra mariguana per un peso complessivo di 80 grammi, già essiccata e pronta per la vendita. La retino è stato quindi arrestato per produzione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Sollicciano, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero.